e salve a tutti ragazzi qui è Shaved che vi parla e oggi ragazzi vi porto questo video in live e niente ragazzi sono qui per dirvi di farmi delle domande per il fuck visto che tanti dei miei amici me l'hanno chiesto di fare perché vogliono sentirmi come parlo e prima di tutto vi dirò che dopo quando scriverete nei commenti le vostre domandine io le commenterò in un prossimo video in live sempre mentre gioco da solo in gruppo cioè dipende chi c'è e vabbè ragazzi intanto vi lascio qui al gameplay di adesso 0 non lo so appena prestigiato sono livello 5 non c'è un cazzo e usiamo il coda dai andiamo ecco già sento uno allora dove siete sento l'M8 silenziato è qui ok oh no 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 non posso non posso fare queste cazzate raga scusate eccole qui sotto oddio non pensavo di fare la doppia eh in 30 in 30 erano raga ecco bello questo spot no morite devi morire te pure tanto spanna qui adesso uno no pensavo madonna l'ho visto tardi raga aiaia eh la madonna vabbè raga cambiamo arma perché mi sto rompendo il cazzo aiaiai suss dio è spannato dietro mmm madonna raga sto da tutte le parti non capisco più un cazzo raga mi devo svegliare perché sto giocando davvero male sto giocando davvero davvero male Ok Ragazzi Concentrazione Approfittiamoci di sto hub Doppia Noo regà Madonna Eh vabbè sono l'unico Praticamente in tre attacchi Come sempre Dove sei? Dove sei? Che palla Stiamo vincendo Stiamo vincendo Stiamo vincendo Muori 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 Mamma mia Mamma mia Attenzione Ah attenzione No qui non c'è nessuno No no regà Mi è partita la mira All'improvviso Cioè È andato storto Non so perché Ho sbagliato Ho sbagliato Mamma mia regà Mamma mia Che palla Oh Cosa fa Eh ti fai male Ma che palla Ma che palla Ma che palla Che palla Ok, ora dai lo stiedi, non ci beccaniamo Ma no, no, no è così Ma l'amera, è che... ....... WTF?! L'amera che non sono tanto che sia un bel occhio Non, non è non unico, non è... D'accelerà... in questo modo No, regà, ma c'è parla C'è l'interno oh Dio oh Dio se cade per il sapere oh Dio per qua no, è fortissimo ancora visto no 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 oh Dio Mamma che palle E' da prima che cambio arma ragazzi Solo questo sarebbe l'ora Perché essendo a livello basso Attenzione Veniamo alla fanstile E' qua E' qua E vince raga E vabbè ragazzi Spero che questo piccolo TCT Vi sia piaciuto E ricordatevi di farmi Le domande sotto i commenti E qui è Shevid Ci vediamo al prossimo video Bella